Un utile di circa 218 mila euro nel bilancio della tua società unica di trasporti della regione Abruzzo. Un risultato che premia gli sforzi di tutti in un anno difficile come il 2023, anno in cui si sono fatti investimenti importanti nell'ottica del miglioramento dei servizi e della transizione energetica. Il bilancio è stato presentato a Pescara dal presidente Gabriele De Angelis e dal direttore Maximilian Di Pasquale insieme al presidente della regione Abruzzo Marco Marsiglio e all'assessore Umberto D'Annuntis. Gabriele De Angelis, presidente della tua, bilancio con un buon utile e si chiude un anno anche complesso comunque per la tua. Sì, è stato un anno difficile perché abbiamo dovuto affrontare tanti fattori esogeni che ci hanno creato, insomma più di qualche problema, ma siamo molto soddisfatti di come abbiamo portato avanti questo esercizio commerciale chiudendo con un bilancio di tua inutile ma anche il bilancio consolidato si è chiuso inutile quindi siamo soddisfatti di questo risultato, abbiamo ottenuto un leggero utile anche nelle controllate sia a San Gritana che in Cerella e in un anno difficile siamo soddisfatti perché è un risultato che neanche noi ci aspettavamo così positivo alla fine. Presidente Marsiglio, il suo commento al bilancio della tua? Commento positivo, parlano i numeri, un bilancio con un margine utile non soltanto della capogruppo tua ma dell'intero consolidato vuol dire che anche le altre aziende del gruppo sono state ricondotte a una gestione seria, oculata e virtuosa del bilancio e questo avviene nel momento in cui incrementiamo il numero di chilometri percorsi, il numero di passeggeri trasportati con incrementi di ricavo da traffico che passano da 17 a 20 milioni, un risultato molto importante, c'è un incremento netto e molto significativo. Stiamo abbattendo anche l'età media dei mezzi con l'acquisto dei nuovi mezzi peraltro nel campo ferroviario è addirittura quasi raddoppiato il numero dei mezzi a disposizione e l'anzianità media dei mezzi passa dai quasi 14 anni del 2019 quando inizia il mio primo mandato agli attuali poco più di 10, sono oltre 3 anni in meno di anzianità dei mezzi significa mezzi più moderni, comodi, efficienti, si rompono di meno e offrono un servizio sempre migliore ai nostri utenti è la strada giusta, andiamo avanti lungo questo percorso.